Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break2Play Reaction con Betrayer e abbiamo scoperto nello scorso episodio un bel po' di cose sul mistero che avvolge il forte San Giorgio Allora, cos'è successo? È successo che la signorina Charity Hammond aveva una serva Questa serva è stata accusata da lui, il signor capitano Calvi Stevens, di stregoneria Perché la signorina Clark, che sarebbe la serva, era stata vista sul recinto a nord del villaggio, sul confine del recinto con le mani insanguinate Appena dopo che la moglie del signor Stevens era stata uccisa travolta da un cavallo Quindi è stata accusata di stregoneria dal signor Calvi Stevens Però la storia delle mani insanguinate proveniva da un coniglio che erano nel bosco La signorina Clark e il signor marito di Charity Hammond a fare le cosacce E quindi non volevano farsi vedere insieme C'è stato un coniglio, il coniglio gli è stato sparato dal signor Tobias che sarebbe il marito di Charity Hammond E lei però l'ha finito perché ancora non era morto Quindi insomma doveva pulirsi le mani dal sangue ma non ce l'ha fatta prima di rientrare E quindi è stata fatta questa cosa Il signor Tobias invece non ha coperto la signorina Clark Ma ha confermato che si trattasse di una strega Quindi è stata bruciata a rugo all'ingresso della città Va bene, comunque questo era un breve riassunto Andiamo a leggere questa nota e non l'avevo individuata Dunque le nostre orecchie puntiamole verso l'ignoto vero nord, nord-ovest Andiamo a nord-ovest a vedere cosa troviamo Rimaniamo nel mondo delle ombre ragazzi Vogliamo trovare tutto Wow Cos'è? Una scarpa da donna piena di fango Ok, hai ragione Skeletri Interessante Boom Ok, arco Andiamo a uccidere questi tizi Tanto poi possiamo ricurarci e rifare incetta di munizione Quindi perfetto Andiamo a recuperare il recuperabile Ok, quindi vediamo che c'è qualcosa Dobbiamo andare di là Vabbè, non importa andare a curarci ragazzi Abbiamo solo preso pochissimi danni Direzione è sempre questa Quindi avanziamo C'è uno spettro Ciao amico spettro Chi sei tu? Grande quantità di sangue Ok, siamo a 20 su 25 prove ragazzi È molto vicino alla fine del gioco Sento ancora le sue urlo Non posso sfuggire loro Di chi? Di Emma Ah, ho pregato affinché finisse in fretta Ma così non è stato Ho pregato perché non ci fosse pietà Ma non ce n'è stata Tu sei Tobias Hammond? Sì Hai testimoniato contro Emma Ricordo le loro facce Quando sono venuti a prenderla Pensavano di avermi Di aver trovato la causa di tutti i nostri mali Era evidente che non avrebbe accettato intromissioni Se avessi provato sarei stato spazzato via anch'io Impiccato come un adultero Ok Ad ultero Bene ragazzi abbiamo quindi Trovato anche il signor Tobias E qui ci sono altre cose molto vicine A quanto pare da trovare Dovremmo aver liberato la corruzione Di tutto il mondo Tutto il mondo delle ombre Però io terrei la pistola Anzi ma il moschetto dobbiamo ricaricarlo Quindi ricarichiamolo Dobbiamo trovare il teschio Il teschio di non mi ricordo come si chiama Ma l'abbiamo trovato nella foresta est Forse c'è un altro totem Sembra di averli finiti a dire la verità il totem Minchia Quanto siamo vicini Oh Ah no Ecco 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 E' proprio il teschio Quindi pronti Di solito arrivano quelli brutti Eccolo qui Vieni 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 Boom C'è un altro Curati C'è un altro C'è uno scheletro No c'è uno scheletro Ma bravo Nicolas Come sei bravo Quindi vediamo di Perfetto Ci sono altri Vedo altri scheletri a dire la verità Quindi Spero basta Dunque Guardiamo se Dobbiamo andare di là C'è altre cose a nord Ci sono altre cose a nord ragazzi Un totem Ancora una volta Quindi pronti Con tutte le armi cariche Uno E due Ok Quindi Non Facciamoci prendere Dalla Dalla paura E dall'ansia Dobbiamo affrontare Dei nemici Ben forti Esplosivi Vero Ok La corruzione è scomparse Invece Non dobbiamo affrontare nessuno A quanto pare Il vento si è diradato Isperdendo nell'aria Il miasma della corruzione E' stato purificato Dalla corruzione Ok Quindi abbiamo completato La corruzione In questo luogo Guardiamo se Non sentiamo più niente Nell'oscurità No Dobbiamo probabilmente Andare al forte Quindi abbiamo completato Probabilmente Metà Delle Dei misteri Di questo luogo Invediamo Di parlare Con la signorina No No La signorina Non ci dice niente A quanto pare Ma lui Ehi Charity Ammons Non ha mai menzionato La stregoneria Siccome non credeva Che Emma Ne avesse fatto Uso Eppure Non ha protestato Quando altri Hanno accusato La ragazza Possibile Che sia stata Così maligna Tobia Sammond Ha testimoniato Contro Emma Solo per salvare Se stesso Dalla punizione Per adulterio Si è tolto la vita Poco dopo Che Emma E' stata giustiziata Rispondendo Rispondendo a un atto Di codardia Egoistica Con un altro E uguale Investigazione Completata Ragazzi Quindi guardiamo Sentiamo altro Ok Potremmo riparlare Con lei Si immagino Quindi Perché hai lasciato Che Emma Forse no Forse no Forse altro Ok Incamminiamoci C'è qualcos'altro Forse era proprio questa la direzione Mi sembrava fosse più verso sud Invece stiamo andando nord est Qui è dove abbiamo trovato il totem Se non sbaglio Se infatti qui c'è il totem Continuiamo a avanzare a nord est Va bene Vediamo se troviamo qualcosa Wow Non ci ha visto Ok Quindi andiamo a avanzare E Riprendiamo la pistola Va Ah eccolo lì lo spirito Probabilmente a lui Si Me lo ricordavo Da tutt'altra parte Dove cazzo siamo Ma siamo no Siamo qua su Ok Salve spirito Credo di aver trovato il tuo teschio Mi sono di nuovo integro Ti darò un regalo Grazie mi auguro Che tu possa riposare in pace Amuleto comune del vigore Ok Quindi abbiamo un amuleto Comune della feroce Della velocità del soldato Questo io lo possiamo anche Elevare il turno Comune del vigore Salute incrementata al 10% Potrebbe essere buona Vedremo di venderlo Questo ci sarà 150 Buono Comodo Non c'è altro Nell'oscurità Quindi siamo pronti A tornare nella luce Iniziare a fare investigazioni Nella Luce appunto Allora Andiamo a suonare la campana E andiamo a parlare con lei Salve Per un po' abbiamo vissuto qui Ricordo che inizialmente Era un posto tranquillo Avevo fiducia nel fatto Che per noi Un giorno sarebbe stata Una buona casa Ho scoperto il fatto Di uno spettro Che scoperto Certi Hammond Ha lasciato la domestica Fosse condannata a rogo Per stregoneria Perché suo marito L'aveva messa incinta Può aver pensato Che due vite Fossero un degno scambio Per la sua vergogna E il suo dolore Si è gravemente sbagliata Ho un regalo per te Che regalo Porta monete E un po' Iscellini che contiene Perché sta dando a me Il porta monete Può servire A tenere piccoli oggetti Suppongo che potrebbe avere Una qualche utilità Sarebbe Uno spreco Di sfarsene Ok abbiamo dato Un regalo a lei Una scarpa Apparteneva a ragazza indiana Uccisa da Isaac Cantrell Perché la sta dando a me In caso tu volessi calzarla E un gesto premuroso Ma i suoi piedi Erano molto più piccoli di me Ho trovato una scarpa donna Che sembrerebbe alla tua misura Perché sta dando Sei a piedi nudi Piuttosto indossare Una scarpa sola Penso che rimarrò così Ok Gli abbiamo proposto Tutti i regali Sei proprio a piedi nudi Vabbè E dunque Abbiamo quindi La possibilità di ascoltare Quello che succede Intorno a noi Alla luce del sole Però vediamo intanto Di ricaricare Tutte le nostre Tutti i nostri proiettili E tutto Ok Quindi andiamo nell'inventare Abbiamo 295 Più Questi Allora Gli scheletri Quindi Il tempo passato Nel mondo delle ombre Non ci da tanti soldi Di solito Perché Non droppano oggetti Mentre nel mondo reale Nel mondo della luce Sì Quindi Conviene Se volete fare un po' di soldi Passare tempo nel mondo reale Allora Andiamo a utilizzare le nostre orecchie Non percepisci altro nella luce Ah Abbiamo completato La zona Ok Ma non pensavo Che fosse così semplice Va bene Quindi Vediamo di proseguire A nord Allora Vi ricordo Non siamo morti per niente In questa zona Quindi dovrebbero essere Morti tutti gli spagnoli Vi ricordo Che Di qua Avevamo ucciso Un selvaggio Oltre a tutto Un esercito di spagnoli Più o meno E quindi Potremmo trovarne altri Anzi Molto probabile Ne troveremo altri Questa foresta Andiamo ad avventurarvi 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 No Avventurarvi C Sì Va Va bene Dunque Ascoltiamo Se ci sono dei richiami E Eccoli qua Brutti Bastardi Io ho la pistola Attenzione Probabilmente ci stanno Per aggrare Non ci stanno Non ci stanno ancora Grande Strano Molto probabilmente Ci siamo Ok Là c'è il cancello Ragazzi E C'è un barile Un baule Un baule Eccoli qui Ok Ricarichiamo Puliamoci Rieccoci Nella foresta Ragazzi Braccati Da questi maledetti Indigeni Vediamo Di Occuparci In maniera Meno Aggressiva Allora Più o meno Conosciamo le loro Posizioni Quindi vediamo Di Avanzare Lentamente Vedere se Per caso Riusciamo a individuarli Prima Che loro si attacchino Eh no Troppa ombra Troppa ombra Quindi non riusciamo Assolutamente A vedere niente Conviene a questo punto Praticamente Farchi Eccolo lì Scusate eh Tenete questo Tenete questo Curati Ma perché Prendiamo danno Overtime Questa non l'ho capita Dove sono Curati Cioè Abbiamo tirato le bombe Non sono morti Ora dovrebbero essere finiti Si spera No Ok Ahia Altri Altri Sbloccata la posizione Della strada a valle Tutte le destinazioni Sono state sbloccate Oh yeah Strada a valle Interessante Quindi io direi Ragazzi Di recuperare questa roba Utilizzare la nostra mappa Tornare a Forte Henry E andare A Curarci Intanto Se almeno riprendiamo Tutta la nostra roba E comprare Anche nuove Munizioni Munizioni Erano diversi Quegli stronzi Arco lungo Pregevole Come vedete Che costa 700 Un sacco di soldi Non possiamo vendere qualcosa Abbiamo un arco corto comune E un arco corto consunto Abbiamo 7,24 Possiamo anche comprare L'arco lungo Pregevole Oppure risparmiare Per comprare il moschetto La pistola Pregevole Non esiste Vabbè Costiamo all'arco lungo Pregevole Andiamo a sostituirlo Con l'arco lungo Comune Vendiamo l'arco lungo Comune L'arco lungo Pregevole Danno 45 Possibilità di aviazione Sempre la stessa Quindi un pochino Più di danno Però Va bene così Ok Quindi Riapriamo la mappa Andiamo a Teletrasportarci Nella strada a valle E siamo Quindi al cancello Dove Quello cos'è? Una nota Jonas Burkett Ha visto una ragazza Nel bosco Non indosso solo Una maschera diabolica Mentre danzava Nuta insieme A una strana creatura Non un selvaggio Bensì qualcosa Di ancora più sinistro Che bello Percepisce Altra una luce Quindi ragazzi Pronti A entrare In una nuova zona Strada a valle Yey Outlink settlement Insediamenti remoti Ok Ci sono degli insediamenti Quindi non c'è Un insediamento centrale In questa zona Pensavo che quella Che abbiamo Finito adesso Fosse l'ultima zona Invece a quanto pare Ce n'è una quarta E vediamo di Utilizzare subito Il nostro udito Ragazzi Allora intanto Ci sono Qui delle casse E un barile Casse che contengono Munizioni Spagnolo Spagnolo Molto lontano Quindi non ha neanche senso Colpire da qui Altro spagnolo Quello un pochino più vicino Vediamo se si ferma Ok Ok E dai Cosa fai Zico Zago Mentre corri Tu stronzo Muori L'altro dov'è Ok Quindi ricarichiamo Il moschetto Recuperiamo Gli averi Di questo stronzo Curiamo Questi 30 punti ferita Why not Abbiamo anche Una palla da moschetto Che ci riporta Al massimo Le nostre munizioni Guardiamo dove siamo Sbucati Ok Nella parte in alto E dunque C'è Questa strada È tutta dritta Fino all'insediamento Potrebbe essere il caso Di seguirla Però Guardiamo un attimino Questa è la strada Che poi porta fuori Quindi probabilmente Troveremo dei nemici Difficili Andiamo invece di qua Come vedete Questo è l'ingresso E questa è l'uscita A questa zona Quindi non andremo là Ma andremo In quest'altro Bivio Questo rosso Stiamo attenti A non Rimanere incastrati Soprattutto Perché Gli indigeni Qui ci sono degli alberi Secchi Addirittura Abbattuti Questa strada Ce ne sono altri Ce ne sono altri No Sembrerebbe di no Ok Sì ce ne sono altri Molto lontani Però Ok Abbattuto anche lui Vediamo la pistola Se dovesse arrivare qualcuno Molto vicino Di corsa Sembra Scusate il bergio Dovremmo sicuramente Vedere di liberarlo E qui c'è un baule Vediamo di aprirlo Ok Dobbiamo quindi liberare L'accampamento dagli spagnoli Edentresor 30 su 40 C'è qualcosa di rosso Anche laggiù Che brilla Mente esplosivo Abbiamo due di esplosivi Potrebbero far comodo Altri Ma no È una croce Una croce Una croce Croce Ralph Brewster Non so perché l'ho pronunciato Come se fosse un tedesco Uno svizzero Però Brewster Dunque abbiamo Una sentinella lì Una sentinella lì E Quello grosso lì E un'altra sentinella lì Vediamo se Riusciamo a No E dunque Abbiamo 11 frecce Vediamo se riusciamo a Buttare giù Quelli lontani Prima Wow Shottato Yes Tu Ti ho ucciso Quanto pare no Anzi ti sto allisciando Amorevolmente adesso Quindi muori Muori Non spararmi Muori Ok Per l'acquero grosso Salve amico Io Sappi che ti voglio molto bene Che ne dici di questo Perfetto A posto così Ne abbiamo uno Che sta arrivando adesso E che Si becca Un headshot Con Il fucile Ma E muore Ok abbiamo Una freccia Adesso Quattro Già il meglio Cinque L'abbiamo liberato Accampamento Yeah La campana È qui Ok ragazzi Quindi recuperiamo la campana Andiamo a utilizzare questo Barile E A uccidere anche Ah ok Se ne è accorto Mi sembrava Non se ne fosse accorto Ma vediamo Dai Non sono finiti Andiamo a dividere da qui Cento Dieci Salute Perché abbiamo Il L'amuleto Del vigore Come hai fatto a vederci? Ce lo spieghi per favore? Come avete fatto a vedermi? Vabbè Sbloccata la posizione Delle capanne Abbiamo sbloccato Quindi questa posizione Ma Si stanno attaccando A ondate Questi spagnoli Sembrerebbe Queste posizioni Amico Aia L'abbiamo preso Vabbè Comunque abbiamo ucciso 250 nemici Ragazzi Vedete L'achievement Che è arrivato Aurora sotto Andiamo di Wow I resti di un uomo Tra di essi C'è una camicia macchiata di sangue Ora si che è incrostato Uno strappo irregolare Vicino alla base del collo Ok Quindi Recuperiamo il recuperabile Intanto Io direi Non c'è Ah c'è Qui c'è un piccolo Wow Wow Cosa? Era una trappola Vero? Vabbè Non so che cazzo Che tipo di trappola fosse Ma era una trappola Quella Boh Vabbè Ehm Andiamo a recuperare la freccia E' rimbalzata E' tornata indietro E dunque Abbiamo sbloccato Quindi ragazzi Questa postazione Vediamo Di Abbiamo sbloccato Queste capanne Quindi Vediamo se Che possibilità abbiamo Da queste parti Intanto Spacchiamo tutte queste casse Per recuperare il recuperabile E C'è Anche Un'altra zona Ok Il negozio è lì Ci manca la zona Dove posizionare la campana Ma sicuramente Sarà quindi Dintorni Perché Questo è il nostro Accampamento Correndo Un considerevole rischio Per la mia salute personale Ho rinvenuto Alcuni nuovi oggetti Si tratta di Premi ottenuti A caro prezzo E per questo Lì ho fatto un costo Maggiore di velo a piada Normalmente Ma tale è la via del commercio Ok Cioè ci dai Una pistola pregevole Vediamo a quanto La vendiamo La nostra pistola comune 150 Potremmo anche Comprarla adesso Oltretutto Abbiamo due moschetti Da scartare Riscatiamo la pistola comune 5,88 Andiamo a tornare Al negozio E acquistare La pistola pregevole Veniamo nell'inventario E metterla Come seconda Arma Ok L'abbiamo già messa Arco lungo pregevole Moschetto comune Quindi dobbiamo andare A Aggiornare il nostro moschetto Moschetto pregevole Costa 7,50 La cosa che costa di più Quindi ho aspettato Aggiornarlo Vediamo se troviamo Il luogo dove posizionare La campana Se no interromperemo Qui l'episodio E lo faremo Nel prossimo episodio Strano che non troviamo Il luogo Vabbè vedremo Vedremo ragazzi Per adesso Terminiamo Qui Ragazzi come sempre Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Lasciatemi un commento Ed iscrivetevi al Break2Play Un saluto a tutti Da Nicolas Ci vediamo Nel prossimo video Grazie a tutti